Bentornati a studio mattina, beh con grandissimo piacere quest'oggi il nostro compagno di viaggio nell'intervista fotografica e Alessio Visuno, uno dei più grandi stilisti napoletani e italiani viventi. Caro Alessio, andiamo a ripercorrere i tuoi 28 anni di carriera, l'abbiamo detto prima con Maria Silvia Malbone. Scegli la colonna sonora del nostro viaggio? Father and Sonny, Kate Stevens. Kate Stevens, maestro! Scegli la colonna sonora del nostro viaggio. Grazie a maestro Ciro Alma e con le sue note partiamo in questo lungo viaggio nella vita di Alessio Visuno e della sua carriera e tutto parte da questa prima istantanea che abbiamo